Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come va? Spero che state bene e che stai trascorrendo una splendida giornata In questo video voglio parlarvi nuovamente di Torino perché è uscita una notizia che onestamente un po' mi ha incuriosito e stuzzicato Come sappiamo tutti ovviamente il Torino è in cerca di un attaccante, vista la situazione di Belotti e dopo che insomma Zalza è ormai palese che sia stato messo sul mercato, separato per un periodo di Genoa però a quanto mi risulta la pista si è tramontata soprattutto perché comunque il Genoa ha appena acquistato anche Kelvin Ebois quindi ha occupato un pochino quello slot e c'è da vedere ancora cosa farà con Ecuban e quant'altro Per Zalza si sta parlando anche di Venezia, da vedere insomma cosa si farà con Forte più che altro perché comunque hanno Gerry e Forte, avere un Zalza rischiebbe di essere un surplus anche a Venezia Prima però di andare non c'è la questione, mi raccomando lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campagna di notifiche prima e sempre aggiornati, supportate le mie serie gameplay, dato uno sguardo al mio secondo canale The Music, vi lascio il link qui sotto in descrizione dove parlo soltanto di musica ma veniamo a noi Il nome nuovo che è stato fatto per l'attacco del Torino è Pietro Pellegri Negli ultimi giorni il suo agente Giuseppe Riso si è recato a casa Milan appunto per discutere la situazione del classe 2001 ex Genoa ed ex Monaco, appunto in prestito al Milan dalla squadra Monegasca per discutere un pochino del futuro in quanto Pellegri appunto sta giocando veramente poco con un Ibra che gioca poco ma quando gioca è determinante con un Giroud che comunque sta garantendo anche una buona solidità fisica in avanti sta comunque dicendo del suo insomma in fase offensiva quindi Pellegri onestamente sta facendo la terza punta al Milan contando che il Milan ne gioca con una giocoforza che è appunto la terza punta Pellegri che è in cerca di riscatto perché quando si trasferì al Monaco era insomma un grandissimo talento del Genoa si trasferì molto giovane poi un po' gli infortuni un periodo insomma di adattabilità insomma è in cerca di riscatto in un ottica Torino allora come caratteristico secondo me potrebbe essere ottimo perché comunque un giocatore che è forte fisicamente che comunque non penso proprio abbia perso il suo killer instinct deve soltanto essere un po' spolverato perché un giocatore quando ti vede la porta di natura, di indole non è che poi nell'arco di due o tre stagioni diventa una pippa clamorosa quindi insomma anche questa cosa è da dire l'unica cosa allora si trasferisce mettiamo a caso chi si trasferisca al Torino con quale formula? come ben sapete io sono altamente contrario al discorso di prendere mille mila giocatori in prestito senza diritto suppongo che il Torino si riserva un diritto di riscatto anche perché comunque il giocatore è già il Milan in prestito con diritto di riscatto quindi non penso che Monaco farebbe eventualmente tutto questo stracismo per inserire appunto questa cifra X per appunto dare la possibilità al Torino di scattare definitivamente il giocatore tenendo conto anche di due cose non penso che il Torino investa grosse cifre in questo mercato per due fattori il primo Cairo si è deciso a sborsare 10 milioni di euro per riscattare Brecalo quindi comunque un costo seconda cosa si parla del rinnovo di Bremer fino al 2024 con opzioni di prolungamento fino al 2025 a 1.8 milioni di euro netti a stagione ergo un contratto comunque rivisto a rialzo quindi una spesa ulteriore per il club con ovviamente un patto in estate di essere ceduto quando dovesse arrivare cifre importanti sui 30 milioni di euro e qui torna al discorso che facevo perché allora Cairo potrebbe chiedere quella cifra lì quindi 35 milioni di euro perché il giocatore non andando più a scadenza ma prolungando per un'ulteriore stagione quindi non entrando più a luglio 2022 nell'ultima stagione di contratto ma nella penultima riservandosi il club appunto un'opzione di rinnovo annuale quindi li estendono fino al 2025 capite che il gioco forza con una molto propria eccessione di Bremer a giugno, a luglio o comunque nel 2022 avrebbe l'eventuale cifra per in primis di scattare un Pellegri e poi agire su quei ruoli che vanno comunque puntellati intanto Brecalo se lo sarebbe ipoteticamente già acquistato e Brecalo è un giocatore troppo importante per il Torino perché sta dimostrando tanto sotto i commenti di un ultimo video appunto realizzato riguardo al Torino un mio iscritto ha citato Meroni sicuramente un giocatore che in parte comunque gli assomiglia un furetto e giustamente poi non me la sono sentita di dire sì a questo paragone ma perché comunque Gigi Meroni era tutta un'altra roba ha rappresentato per il Torino una fetta di storia tanto importante Brecalo ancora deve dimostrare non bastano otto mesi, sette mesi una squadra per poter essere paragonato a un'icona quindi keep calm ai paragoni però comunque è un giocatore che sta rendendo tanto e secondo me Inuri ci ha trovato un allenatore che lo valorizza valorizza appunto il giocatore per le sue caratteristiche e in questo modulo rende veramente tantissimo poi gli eventuali altri soldi che magari andresti a far con Bremer come li investiresti? è da vedere cioè io in estate poi non mi sento di fare nomi tipo Ryder ecco che sono accostato al Torino 5 milioni di euro sembra sia la votazione però quando tu ti trascini in estate per un investimento così soprattutto con un'eccessione eventuale di Bremer a 30 o più milioni comunque puoi fare altri tipi di ragionamenti difficile pobega ok? però sicuramente tornando al diciamo all'argomento principale del video avresti comunque i soldi eventualmente necessari per riscattare un Pellegri qualora ti dovesse esplodere a Torino o quantomeno qualora dovesse ritrovare la forma che aveva ricordiamo sempre che Iuri c'è un tecnico che ti tira fuori il sangue dalle rape ok? e uno che ha valorizzato un lasagna un lasagna scusate perdonatemi questa De Fajons ha valorizzato un Zaccagni che ha fatto con Iuri delle stagioni clamorose è andato alla Lazio a parte qualche iniziale acciacco fisico ma sta rendendo comunque bene quindi a livello anche tecnico io sarei veramente curioso di vedere Pellegri al Torino perché è un profilo un po' della serie Luca Moro un po' della serie Marco Lazetic un po' della serie Luca quindi fisicato veloce più che veloce diciamo uomo d'area fisicato chiesa a tenere botte fisicamente però ripeto mi stuzzica parecchio io onestamente questa traccia la seguire particolarmente perché secondo me potrebbe essere un nome molto interessante per il Torino ovviamente fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate tifosi del Torino e non mi raccomando se vi è piaciuto il video lasciate un like appunto al video iscrivetevi al canale attivate le campanelle supportate le campanelle uno sguardo al mio secondo canale mi scuso nuovamente per questa location esterna dalla Davor Car però ragazzi purtroppo gli impegni sono quelli che sono e devo trovare devo ottimizzare il tempo per registrare e offrirvi un prodotto quantomeno funzionale magari in questo caso non bello ma funzionale vi mando quindi un abbraccione e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi grazie grazie a tutti